Benvenuti o bentornati sul podcast del canale All You Can Italy, audio storie in italiano. In questo podcast vi proponiamo delle storie, a volte brevi e altre più lunghe, per aiutarvi a migliorare la capacità di comprensione e di ascolto della lingua italiana, per arricchire il vostro vocabolario e anche solo magari per farvi sognare. Oggi ho deciso di proporvi una scrittrice che fa sognare incredibile. Diciamo che gli aggettivi per Alda Merini sono sempre troppo pochi. Il brano che vi racconterò è tratto dal libro Il ladro Giuseppe, racconti degli anni Sessanta di Alda Merini e si intitola Il caffè. Il primo aggettivo che mi viene in mente, pensando o descrivendovi questo breve e facile brano, è incantevole e poetico. Sì, l'intera raccolta è veramente un consiglio prezioso che vi suggerisco. Le persone ed i luoghi sono quelli della Milano, la Milano di Alda Merini, dei Navigli e degli anni Sessanta, prima e dopo il Sessantotto. Una Milano del dopoguerra, povera ma ricca di poeti e di lavoratori, di casi umani e di diritti civili. Un periodo che Alda Merini, beh, racconta, anzi descrive, fa rivivere in questi brevi racconti in modo assolutamente incantevole. Io penso che sia sicuramente uno dei libri da leggere per capire, o meglio, per vivere meglio non solo un'epoca storica, ma anche un personaggio come quello di Alda Merini, che merita veramente di essere approfondito e studiato. È una poetessa, una scrittrice, capace di suscitare con le parole sensazioni fortissime e piacevoli, anche quando descrive dolore, rabbia, disagio, tristezza o malattia. In questa serie di racconti, con delicatezza, con umiltà e con magia, riesce a descrivere l'essere persona di un uomo o di una donna e la sua incredibile umanità. Ora, ascoltate, di Alda Merini, tratto da il ladro Giuseppe, racconti degli anni Sessanta, il caffè. C'è un caffè, giù sulla ripa, gestito da due sorelle, dove io mi ritrovo tutti i giorni insieme ad altre compagne di sventura. Sì, perché la vita è una enorme, assurda sventura. I nostri discorsi li conosciamo a memoria, come conosciamo a memoria la vita, l'una dell'altra. Abbiamo tutte un punto debole, un punto doloroso, di cui parliamo sempre. E questo caffè somiglia o a un confessionale o a un luogo di psicoterapia, piuttosto che a una birreria. Una volta un tizio mi disse che non davo buono spettacolo facendomi vedere lì dentro mentre le altre massaie rassettavano la casa. Ma io mi ero messa a ridere. E dove la trovavo io la forza di andare avanti se nessuno mi parlava mai? Sì, d'accordo, erano discorsi scuciti di gente molto vicina all'arteriosclerosi, ma in fondo erano discorsi umani, accorti, anzi, con un certo piglio signorile, perché le persone che frequentavano questo bar avevano tutte licenza di credere che sarebbero state persone altolocate se il caso fosse stato benigno. Beh, ecco, il baretto consta di un largo pancone e poche sedie per le persone più anziane, ma ci si trova bene e si addice meravigliosamente al naviglio che sta di fronte. Fuori la scritta La Madonnina, precisa che ci troviamo proprio a Milano, nel cuore della vecchia città, che non ci possiamo sbagliare e che lì dentro è tutto milanese. Le sorelle, poi, che gestiscono il locale, il quale non ha subito modifiche da oltre un centinaio di anni, sono abilissime e curiose. Quel tanto di curiosità che basta farti dire con piacere le tue cose private come se ti scaricassi di un lungo, inveterato peso. La Madonnina, ecco il mio punto fermo nella vita e alle volte vorrei scrollarmelo di dosso come un piacere che non merito. A volte mi dico che ho sempre cose più urgenti da fare, che non è giusto che una madre di famiglia si sieda a prendere un buon caffè. Ma poi mi consolo che sì, in fondo, non vado mai dal parrucchiere che non ho altri sfoghi e così mi adagio serenamente nella poltrona del piccolo caffè e lì comincio a dipanare ricordi senza fine e senza nome sulle scie dei discorsi degli altri fumandomi qualche sigaretta regalata anche quella dall'Alice che è la più giovane delle sorelle. Così ecco un punto fermo. Credo che tutti nella vita ne abbiano bisogno di uno. Chi se lo fa al bar, chi in altri posti, chi persino in chiesa. E poi lo crederesti, lettore? In questo bar qualche volta si prega. Sì, perché vedete siamo tutte persone spaurite che andiamo a rifugiarci lì dentro a chiedere una grazia solo che questa grazia invece di chiederla a Dio la chiediamo a una buona tazza di caffè. E questo era il brano Il caffè di Alda Merini tratto dal libro Il ladro Giuseppe Edito Chevalier nel 1999 a Milano. E voi qual è il vostro punto fisso? Un luogo? Una persona? Un'idea? Un sogno? Lasciatemelo in commento e fatemi sapere. Io spero che questo podcast diventi un vostro punto fisso per migliorare per imparare cose nuove sulla lingua italiana e sui tanti scrittori che l'hanno narrata o anche solo forse per sognare un momento insieme. Ciao e alla prossima da All You Can Italy